Rania è venuta in Italia per lavorare ha portato con sé sua figlia Farida che frequenta la scuola elementare Rania non si è mai risparmiata da anni è una lavoratrice instancabile ma purtroppo non si è mai preoccupata di indossare un paio di guanti per maneggiare i vari prodotti che le servono per la pulizia come tutte le mattine Farida andrà a scuola ma Rania dovrà rimanere a casa adesso le sue mani hanno bisogno di riposo non potranno più lavorare per un po di tempo troppo tempo per Rania nelle immagini sono evidenziati due adempimenti a carico del datore di lavoro la valutazione del rischio chimico e la valutazione del rischio derivante dalla presenza di lavoratori stranieri in questo caso la lavoratrice viene esposta al rischio di utilizzo di prodotti nocivi senza un'adeguata conoscenza del loro impiego situazione aggravata dall'insufficiente conoscenza della lingua italiana da parte della lavoratrice è sottolineato inoltre il mancato utilizzo di protezione individuale come i guanti comportamento generalmente diffuso tra i lavoratori di rischio chimico e la valutazione di lavoratori stranieri come i guanti comportamento generalmente diffuso tra i lavoratori del rischio di